Siamo ritrovati a confinarci tante cose. Come fratello, perché sentiamo l'amore nei confronti di Dio, nostro padre, e della Chiesa, nostra madre. Come figlio, perché tu, come padre, quando sono arrivato a Pacello, mi hai subito abbracciato con l'affetto fratello. E da parte tua ho sentito questa grande benevolenza. E infine, vi esprimo il mio grande affetto, come sacerdote e parlo di questa comunità ecclesiale. Perché da te ho imparato a conoscere questo pregio, i fedeli di Pacello, che tu e padre Pacello avete conveniato per unissimi anni e che amate, e da lui insieme a te. Quando un giorno dovrò andare a sentire Dio in altri punti, o ritornare alle case del Padre, per rodarli a Redello, spero di potersi vivere delle mie memorie, che ho inteso fare, arlo o a Pacello, solo e unicamente per l'amore della comunione, dentro questa comunità ecclesiale, per aver generato, attraverso il frattesimo, nuovi figli alla Chiesa, per averli cresciuti con il sacrificio della mia vita, e per averli accompagnati verso scelte di vita cristiana, chissà, spero qualcuno, verso il sacerdosio. Cose tutte che tu hai fatto, caro padre Sebastiano, ecco perché tanti fedeli oggi sono convenuti così numerosi per dirti, ti vogliamo bene. E anch'io, carissimo amico, fratello, padre e confratello del sacerdosio ministeriale di Dio, ti voglio tanto bene. Grazie. Applausi 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 Aplausi Grazie.